mentre il girone si dovrà vedere l'Islanda il girone che ha prima nominato anche la Croazia la Ligeria è una squadra che potrebbe stupire anche se comunque la Croazia parte insieme all'Argentina come favorita diciamo ecco il girone più abbordabile anche forse meno appetibile dal punto di vista dei nomi dello spettacolo anche se poi non è proprio pienamente così è il gruppo H insomma formato da Polonia, Senegal, Colombia e Giappone anche quello della Russia è molto abbordabile per i padroni di casa se tu lo vai a vedere adesso non mi ricordi noi diciamo che ogni paese ospitante ha sempre avuto poi un girone abbordabile diciamo anche nell'ultimo mondiale ma quel Portogallo-Spagna quanto è bello nel gruppo B dovrebbe partire da vincente Marocco e Iran insomma faranno da ho una provocazione per voi il Portogallo si può confermare altri livelli con Cristiano Ronaldo che sta partendo in sordina forse proprio per risparmiarsi per i mondiali sappiamo che Ronaldo è molto minuzioso su questioni di preparazione fisica è molto analitico da questo punto di vista quindi non fa mai niente per caso esatto chissà se si sta risparmiando proprio per i mondiali il Portogallo può essere nuovamente una sorpresa arriva da campione d'Europa ma Portogallo diciamo che intanto c'è il pareggio della Ternana il pareggio della Ternana contro contro il Pescara Pescara sì che anche in dieci dunque il gol di tremolata due minuti dopo che aveva sbagliato un rigore credo ci sia stato un calcio di rigore per la Ternana con l'espulsione di Perrotta da parte dell'arbitro sì no insomma effettivamente anche questa situazione è da seguire dunque il pareggio della Ternana siglato da Tremolata sì appunto Fiorillo ha respinto il tiro di Tremolata poi insomma Tremolata è riuscito a mettere in rete quindi un'altra rimonta subita dal Pescara di Zeman che sembrava in controllo totale l'abbiamo detto un 2-0 che nel primo tempo era sicuramente meritato ma che invece in brevissimo tempo insomma si è ribaltato tutto e addirittura c'è stata anche un'espulsione per Perrotta il centrale del del Pescara quindi un Pescara che giocherà in dieci in dieci uomini tutto il resto della ripresa e chissà che la Ternana non riesca a trovare anche un inesperato vantaggio non mi avete seguito sul Portogallo però no perché ci sono stati questi sconvolgimenti ti stavo dicendo il Portogallo a parte ecco l'ultimo espluato insomma nell'europeo e la finale raggiunta nell'europeo casalingo del 2004 a livello internazionale diciamo che che poca poca roba insomma quindi ecco diciamo questo questo doversi riconfermare a tutti i costi insomma può considerarsi diciamo una cosa in più secondo me perché ecco il Portogallo non secondo me non è non è obbligato a riconfermarsi ha fatto un grandissimo europeo diciamo anche d'astuzia poi molto fortunato ricorderemo anche come come arrivò a quella finale fatto sta anche il percorso eh sì comunque tutti sì il tabellone poi mi pare quarti ottavi e semifinali vinte ai supplementari ai rigori pochi gol fatti poi ma pochi gol fatti esatto intanto c'è il 3 a 1 del Cittadella secondo me un'altra un'altra nazionale che poi mi incuriosisce parecchio è l'Inghilterra il scusami Matteo il gol di Kwame che mette il risultato sull'1 a 3 a Foggia dunque Cittadella 3 Foggia 1 allo Zaccheria vai è l'Inghilterra che deve confermare un po' queste praticamente questo periodo di delusione da quant'è che non arriva a una fase finale di un torneo mondiale da un sacco di tempo e secondo me questa potrebbe essere l'anno giusto per riscattarsi per l'Inghilterra non lo so molti talenti si c'è un Kane che sembra arrivato all'arice della sua forza perché forza anche agli europei non era il Kane che stiamo vedendo in questo inizio di stagione al Tottenham c'è delle Alli che insomma è superbo anche se devi spendere delle parole ma è soprattutto una squadra solida anche lo stesso Stones sul quale Guardiola sta facendo un gran lavoro c'è Sterling quindi molte stagioni in questa stagione stanno facendo ottimamente arriva in forma secondo me in Inghilterra quindi se molti giocatori chiave sono in forma e quindi potrebbero sicuramente potrebbe essere un mondiale dopo tanti mondiali insomma credo lo stesso Rashford credo abbia giocato almeno gli ultimi tre mondiali senza Wayne Rooney esatto insomma le sue prestazioni di inizio campionato con l'Everton come quelle dell'Everton lasciano come tutto l'Everton lasciano molto a desiderare adesso l'Everton ad esempio sta giocando con un attaccante che non avevo mai sentito che si chiama Calvert Lewin Calvert Lewin Lewin under 20 under 20 inglese com'è questo giocatore perché insomma passare da una stagione con cui cioè ha giocato con Lukaku che ti risolveva le partite aver fatto comunque una una campagna acquisti che è stata molto spendacciona se così vogliamo dire ma non aver sostituito Lukaku è stato un errore è stato un errore secondo me sicuramente Lukaku è un attaccante che a me non piace tantissimo però effettivamente segna segna tanto quindi poi alla fine anche difficile poi da sostituire un attaccante che segna ha sempre ragione diciamo e soprattutto a questi livelli quanti anni ha e quanti che l'ha fatta è un giocatore mostruoso Lukaku L'Everton ha tentato di rivoluzionare un po' la squadra effettivamente era partito con molte aspettative perché il mercato era stato buono perché ha preso il portiere dell'Inghilterra Under 21 cioè Pickford esatto ha preso Sandro Sandro il centravanti della della Spagna Under 21 no è il centravanti della Spagna Under 21 Sandro Ramirez se non sbaglio poi ha preso anche questo Calber Leeuwin il centrocampista olandese di cui mi scordo il nome Glassen quindi molti giovani che però non sono riusciti a rendere forse anche la causa dell'allenatore Koeman che non è evidentemente stato in grado di riuscire a creare un gruppo a creare le condizioni poi hanno tentato di prendere Runei che era partito anche bene con diversi gol sì però era partito molto bene poi si è spinto invece il grande acquisto della Premier è stato Salah all'Iverpool sta facendo una stagione mostruosa che fatica un po' in campione non sta rispettando l'attese però in Champions è primo a un punto dal Siviglia ma soprattutto Salah è capocannoniere quindi insomma secondo me ecco però la Roma quanto ha risentito dell'assenza di Salah allora qua c'è da fare un discorso a parte nel senso che la Roma facciamolo questo discorso perché la Roma può vendere Salah a quelle cifre davanti a un'offerta del genere quindi assolutamente la colpa non è della società anche perché Salah ha deciso vabbè non sfociamo in commenti razzisti addio al Maghreb comunque ma a queste cifre si può vendere il fatto è che di Francesco per tutta praticamente l'estate ha chiesto Lala che tanto doveva arrivare si era parlato di Marez di altri di altri esterni e non è arrivato ed è stato acquistato Schick per 40 milioni circa 42 42 38 più bonus la cosa che mi incuriosisce è che questo Schick in realtà è una punta anche lui si definisce una punta mentre di Francesco lo fa giocare sempre da esterno proprio perché oltre a De Frel che neanche è un esterno che neanche è un esterno non ha queste c'è un der esatto hai preso anche questo talento che comunque ha fatto vedere di avere delle abilità ma comunque non può fare il titolare adesso alla Roma quindi diciamo che tu non l'hai sostituito Salah e ti ostini a far giocare il tuo acquisto di punta in un ruolo che non è il suo per questo dicevo discorso a parte sicuramente Salah per quelle cifre si può vendere è un giocatore mostruoso perché ti può cambiare gli equilibri da un momento all'altro con ripartenza e con la sua velocità ma secondo me l'errore della Roma se si può parlare di errore perché comunque poi sei andato a prendere un colarob e sta facendo una stagione mostruosa una cifra irrisoria è che secondo me ti serviva un altro acquisto se non proprio di punta che spendevi questa cifra clamorosa almeno un altro ricambio sulla fascia una disamina perfetta potremmo dire no sulla Roma non mi prendete ha raddoppiato il Novara ma è stato annullato non credo insomma adesso vi saremo dire meglio comunque si però Di Francesco comunque ha risolto i problemi derivati da questa perdita molto bene sì sicuramente sicuramente rivitalizzando anche un El Charawi che sembrava essersi perso secondo me il El Charawi che era partito forte quando è arrivato alla Roma e poi si era perso Di Francesco l'ha rivitalizzato rivitalizzando tanti altri giocatori ne abbiamo parlato Gerson il Novara effettivamente ha segnato ma il gol è stato annullato perché c'è stata una netta carica sul portiere su Provedere quindi il gol giustamente l'arbitro lo ha deciso di non di non assegnarlo appunto al Novara ma Matteo finisci no no è questo diciamo un Di Francesco che è arrivato con molti mugugni è arrivato con l'appellativo di allenatore Zemaniano ma sta trovando anche una solidità difensiva con una stagione paurosa fin qui di Fazio lo stesso Juan Jesus e viene da due partite ottime quindi diciamo sta rivitalizzando tanti giocatori che su cui c'è sempre stato un punto interrogativo ecco ieri l'unico su cui si può diciamo dare un commento negativo è stato con Alon che Di Francesco poi più volte ha ripreso sì anche se poi adesso è costretto a metterli in campo anche perché sì giocatore sì no nel senso allenatore che fa molto turno il motivo poi della sostituzione di Conalon esatto che non stava capendo molto a centro era ammonito insomma stava facendo un po' di falli sembrava nervoso e soprattutto l'altro motivo è che gli arrivava sempre la palla e Di Francesco apprezza un gioco subito lo scarico sulle fasce mentre Conalon si ostinava a tenerla e fare lanci lunghi sì poi ecco Conalon rispetto a De Rossi ha più insomma il gioco in verticale no rispetto a De Rossi è solito insomma scaricare la palla magari al terzino all'esterno basso mentre Conalon cerca molto molto spesso il lancio verso gli attaccanti o o verso gli esterni alti insomma quindi sono hanno queste due hanno queste due quattro rossi ah no abbiamo visto l'azione del rigore della Ternana che ha concesso il pareggio con un fallo di mano di perrotta veramente una parata una parata intanto molto nervosismo c'è un altro cartellino giallo per un giocatore della Ternana per la Ternana sì ma l'Arsenal sta giocando adesso perché l'Arsenal è una squadra che parte sempre con molte pretese tanto vantaggio del Liverpool no però intanto da un allenatore della Roma all'altro perché da Di Francesco passiamo a Spalletti che adesso allena Inter che rischia insomma rischia un bel rischio domani di trovarsi in vetta la classifica abbiamo già parlato Spalletti assolutamente valore aggiunto di questa squadra Sculetti anche per i romanisti anche Sculetti un allenatore che sicuramente è stato fortunato in più di un'occasione ma non si può assolutamente togliere il suo lavoro in quest'Inter diciamo un gioco che è affaticato ma ora è presente una squadra compatta con gioco che è giocatore di tanto latita però gioco che è latita ma pochi fenomeni molto compatta la squadra è una squadra che sta facendo Andanovic Perisic i guardi forse sono quelli i giocatori sì esatto anche lo stesso Borca Valero Scrinia si sta confermando sì Scrinia sta facendo una grande stagione di rompere i giocatori affermati come hai detto tutti i fuoriclasse Perisic Andanovic è un segnale importante questo no infatti sta facendo giocare molto bene subito raddoppiato il Liverpool 2 a 0 Salah questo è Mohamed questo è Momo te lo senti? te lo sento io quando segno Momo lo sento per me è Demarai ma è dell'Ettaro segna pure con il Liverpool questo è Momo intanto insomma c'è un cambio nel Cittadella entra Settembrini che è uguale a Salah sì perché la stessa chioma Folta eccolo è vero è entrato Salah pure Salah dappertutto corre per l'Europa ecco c'è un Cittadella che ha vissuto un'ultima settimana veramente di grandi soddisfazioni in trasferta perché prima il passaggio del turno in Coppa Italia contro la SPAL sì e adesso sta vincendo a Foggia un altro campo sicuramente non facile tutte le altre partite ecco andiamo un attimo riepilogo dei risultati di Serie B fino a questo momento sì andiamo a Foggia a Foggia a Foggia a Foggia a Foggia